Nel centro polifunzionale di Soccavo nascerà presto una cittadella dei giovani. Sono partiti i lavori di recupero del complesso che consentiranno entro fine anno di ospitare attività culturali e ricreative rivolte ai ragazzi. Il progetto è cofinanziato da fondi por campania e di bilancio comunale ed è realizzato dallo studio di architettura BAM, aggiudicatario del bando pubblicato dal comune. Questo è il secondo intervento significativo e importante in termini di strutture che il comune di Napoli fa su un'area che è quella di pianura Soccavo dove noi vogliamo attivare il tessuto associativo e creare una forte rete cittadina e dare poi servizi qualificatissimi. Andremo a riqualificare, sono già partiti i lavori quindi in queste ore ci sono già i cantieri aperti all'interno del polifunzionale, quasi metà della struttura che diventerà uno spazio aggregativo per i giovani altamente qualificato. Alle attività già in esercizio presso la struttura di via Pio Claudio si affiancheranno un cinema, un'area mercatale, una sala congressi e ristorante, punti accoglienza e informazioni e laboratori educativi. La possibilità per i ragazzi di prototipare un handmade, cioè un fatto a mano e quindi di creare all'interno di questi laboratori delle idee veramente innovative, ci permette di arrivare molto in là. Attraverso un bando creativo di idee saranno gli studenti delle scuole del territorio a scegliere il nome del nuovo centro giovanile. Per coinvolgere ed aggregare ancora prima che il luogo sia pronto i giovani delle scuole perché è ferma convinzione di questa amministrazione che ci sia la necessità di superare il concetto di periferia attraverso una cosa fondamentale. Tutti i territori devono avere dei luoghi di aggregazione per i propri ragazzi. Questo centro entrerà poi nella rete dei beni comuni della città di Napoli e quindi poi presenteremo nel mese di agosto dei bandi alla città per la gestione attraverso convenzione di questi spazi.